Green Pass per i lavoratori obbligatorio. Si parte quindi dalla giornata di oggi, come era prevedibile, con una serie di rallentamenti e polemiche, che però trovano sfogo principalmente sui social, che diventano megafono e amplificatore anche di chi poi non esce allo scoperto. Al suono della sirena, molte le fabbriche che all'ingresso hanno visto il ritardo del primo turno di lavoro obbligatorio con il certificato verde. Nulla di rilevante, a patire invece le aziende partecipate. ATAP ha inviato un comunicato nel quale sottolinea che si informa l'utenza che sul sito www.atapspa è pubblicato un elenco di corse che nella giornata odierna non potranno essere effettuate, a causa delle assenze di personale viaggiante di cui l'azienda ha ricevuto notizia solo in data 14.10. Stante l'esaurimento delle scorte di personale abilitato alla guida, non è stato possibile sostituirle. È possibile, vista la situazione di emergenza indotta da tali assenze, che si protragga anche nelle giornate successive. Si raccomanda quindi la consultazione del medesimo sito internet, ove nei limiti del possibile con il massimo preavviso consentito dall'evoluzione giornaliera della situazione verranno aggiornate le informazioni relative ed eventuali criticità nell'erogazione dei servizi. Ed anche CORDAR che ha annunciato ai dipendenti che il Green Pass sarà controllato ogni mattina all'ingresso. Atteggiamento che si discosta da quanto viene fatto ormai con regolarità. Il certificato verde viene controllato di solito insieme alla data di scadenza e fino ad allora tutto regolare. Numerose le aziende con un numero elevato di dipendenti che faranno anche dei controlli a campione. Piazza Martiri, ancora teatro delle manifestazioni nostrane dei Novax, che però nel biellese sono sempre stati pacifici.